Io penso che è una partita da affrontare nel modo giusto, dipende molto da noi. La paura che ho è quella che magari si possa sottovalutare l'importanza di questa partita e le difficoltà di questa partita. Noi lo dobbiamo affrontare con la nostra giusta concentrazione, con la nostra rabbia, con la nostra voglia di ottenere assolutamente il risultato. Non abbiamo parlato già da martedì con la squadra, abbiamo cercato di evidenziare proprio queste incognite di cui parlavi prima tu. Quindi dobbiamo essere molto attenti e concentrati a dare il meglio di noi stessi. Sì, questo è un problema che abbiamo perché avendo una rosa un pochettino ristretta, nel momento in cui ti vengono a mancare due giocatori, insomma giocatori di ruolo ne abbiamo uno che è Brugaletta che può sicuramente sostituire uno dei due e un altro poi lo dobbiamo adattare. Quindi lo vediamo, o Scipioni o Masullo deve sicuramente subentrare nel terzetto difensivo. È arrivato Di Matteo, quindi anche lui ci potrebbe dare una mano, anche se in questo momento a livello fisico è sicuramente da ricostruire, perché è da tanto che non gioca, però è un giocatore esperto, un giocatore di qualità, quindi vedremo se sarà della partita. Grazie a tutti.